e un applauso grande al 166esimo circolo didattico Antonio Gramsci guidato dall'insegnante Antonella Battistelli caro amico ovunque sei scrivo a te i pensieri miei io non so che viso hai ma ti voglio bene assai il sole verrà domani per noi e il cuore ci scalderà e nel suo splendore giorni d'amore ci regalerà se la notte è fredda e scura un tremore porta in sé non piegarti alla paura ma dividila con me aia oia Grazie per la visione 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 Grazie per la visione